8 autovelox posizionati lungo la tangenziale di Padova non sarebbero regolari o meglio non risultano omologati e quindi le multe emesse potrebbero essere contestate. A stabilirlo una sentenza del giudice di pace del Tribunale che ha accolto il ricorso di un automobilista sanzionato nel 2018. La denuncia arriva dal consigliere di minoranza Alain Luciani che aveva presentato un esposto in procura. Oggi ce lo dice un giudice di pace che ha accolto un ricorso di un automobilista proprio dicendo che manca questa omologazione e quindi invalida il verbale. Ovviamente questo potenzialmente potrebbe far arrivare una pioggia di ricorsi per i velox di Padova. Io avevo avvisato il sindaco e anche il comandante che c'era qualcosa che non andava bene. Gli otto velox incriminati sono quelli modello 106 Premium Plus posizionati a detta di Luciani durante l'amministrazione Zanonato Rossi e aggiornati da Giordani a partire dal 2017. Secondo il giudice però l'aggiornamento non è sufficiente e serve l'omologazione del Ministero. Il rischio è che ora ci siano migliaia di multe da annullare con danni considerevoli per le casse comunali. Per Luciani l'unica soluzione è che gli otto velox vengano subito spenti. Gli otto velox in realtà hanno anche una funzione preventiva per gli incidenti e per l'alta velocità fatta in modo che gli automobilisti siano certi che quando commettono una irregolarità è giusto che vengano puniti e anche pagare il verbale. Non hanno fatto niente, oggi è urgente, oggi quelli vanno spenti tutti.